Allora, la situazione è che c'è stato un evento localizzato questa notte, circa tra mezzanotte e l'una, l'una alle due, che ha portato, soprattutto se concentrato, nel bacino del torrente Re. C'è stata una colata importante. C'è stata una colata molto importante che si è bloccata all'inizio del conoide e ha fatto disalveare l'alveo che è ancora fuori sede. Ho visto anche un edificio? L'edificio, sì, c'è un edificio che è stato lesionato e per fortuna non ci risultano vittime e niente. C'erano già stati eventi simili nell'87 che avevano interessato tutti gli alvei e c'erano state anche delle vittime. Gli interventi però fatti comunque hanno dato dei risultati perché se si vede il ponte a monte, se si arriva a vedere il ponte e l'alveo del torrente Re, la luce così si rende conto delle dimensioni anche dei fenomeni. C'erano proprio... Grazie a tutti.